Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi troviamo qui un one command block che aggiunge gli oggetti per il cinema E quindi dobbiamo droppare per terra 8 pannelli di vetro neri Il rosso e il cactus green, quindi neri Ok, proviamo questo, poi prendiamo il rosso, poi prendiamo il cactus Ok, proviamo a droppare E funziona un cavolo E E E Ah Ho dimenticato il light blue Mamma mia Faccio prima di andare a cercarlo qui Ecco Per fare fail Ora si gratta E abbiamo un curved screen Quindi ora proviamo a prendere del calcio astruzzo E Per Creare 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 appunto La nostra base Iniziamo un muro così Iniziamo un muro così Ragazzi Ragazzi abbiamo Scusatemi per il fail Ok Ok Note block Quattro lingue Perfetto Facciamo così E abbiamo E abbiamo gli speaker Che Farò mettere qui Oh Mamma mia Vedete ragazzi Già sta prendendo forma La nostra camera Di cinema Quindi Ragazzi Continuiamo Non vedrò mai per cosa sto ridendo Mi sto impazzendo da sola E Quindi Tre Lana nera Quattro lingotti Ok Ok Nero Prendiamo i lingotti Ho fatto bene? Ho fatto bene Poi Ora prendiamo Le panna nelle sedie Mamma mia Signori Oddio Ragazzi Bella dei command block Ragazzi Questa si che è un cinema Che dire Che ho fatto perdere un po' di vita Sì Ah Vabbè Avrei fatto un grande errore Vabbè Poi dopo Se è il caso Li leviamo Allora possiamo fare anche così Head block Graph Graph Aspetta Dirt E non qui Io intendo qui Vabbè Arrivederci What the fuck Ah ma volano che bello Poi Prossimo Prossimo Quattro pannelli neri E quattro lingotti Quindi Pannelli Prendiamo i lingotti Per crattare Per crattare Un tavolo di vetro Quindi Mettiamo Mamma mia Quanto è bello Ci posso mettere la roba Bello Però come la riprendono Come la riprende la roba Vabbè Sicuramente ci dovremmo di buttare una leva o qualcosa Poi Ehm Il prossimo è Mi sembra che sia anche l'ultimo Quattro pannelli Ok Quattro pannelli neri Ok Due rossi Quattro Ok proviamo Ah ok M Sarebbero i pannelli Per non disturbare Credi Ok Ehm Perfetto Mamma mia Ok Sembra più un Campiccio Vabbè Dove abbiamo finito Sì ragazzi Ritorno tra poco con il Design completo Ehm A dopo Ciao Finalmente ragazzi Sono riuscito a conseguire la base del nostro cinema Ed è Così Abbiamo dei tavolini dietro per appoggiare la roba a casa Così col braccio dietro Come a me sto facendo il gesto Poi ci possiamo sedire comodamente qua davanti Per guardare il film Così poi quando si urla se ti guarda un film horror ti fa Ci sono Abbiamo messo qui I mixer Bellissimo messo dal telefono E con questo ragazzi Il video vi piace veramente qui Noi ci vediamo alla prossima da Cliver Games Un saluto Ciao a tutti